E bentornata gente gentosa, oggi siamo in un nuovo video e... Oggi siamo su... Stavo dicendo, oggi siamo nello speciale Pasqua e con me c'è Lele Gaza Ciao a tutti i ragazzi Che... e... oggi faremo la... Indovina lo YouTuber Challenge Senta molto con Pasqua Sì, e... la seconda challenge del canale ma mega scialla perché sì Allora, oggi... Ehm... con i nostri telefoni praticamente vi spiego come... Sì, questi qua, sti bei cosi che mi hanno anche attaccato al caricatore Perché scarico Che bello Non avevo voglia di incaricarlo, dai E te che guardi tanto su... Ah scusa Praticamente lui mi fa vedere un'immagine ingrandita di uno YouTuber Diciamo famosi perché non è uno da... Tipo come noi Bellissimo Perfetto Comunque... Comunque... Ehm... Sì, dai, inquadriamo l'immagine Una parte della sua webcam, possiamo chiamarla Beh, nella sua faccia Webcam e faccia sono due cose diverse Questa che ci sta inquadrando è la webcam Questa è la mia faccia Andiamo a mano Che bella faccia Inizierà l'eleganza il primo turno Aspetta subito, qui faccio vedere al nostro pubblico Questo è tisi Ok Se non si vede da lì State tranquilli che lo metto lì Nel... Con il particolo Allora, tre Ciacci Due Uno Via Oddio Oddio, allora Ricordo che ho un minuto di tempo Quindi uno deve creare un nome traguardo E che bello Allora Oddio Chi è? Posso sparare? Abbiamo tre possibilità da sparare Per affetto Ok Io Io Tobi C'hai seccato Oddio C'hai seccato In tua casa Regà In tua casa Ho detto a casa La prima No, no Adesso mi vado a suicidare Ciao Addio Intanto io ti guardo YouTube Niente È un profetto È lì È lì Ok Ho messo il camere Scusate Scusate Allora Adesso tocca a me Io Vi farò vedere Allora Aspettate un attimo Ok Ho preparato Ho preparato l'immagine Ed è esattamente questa qua Spero che Ok Cuso il telefono Fail No, comunque Ok Dopo il failone E adesso Cerco di non schiacciare qui niente È questa qui L'immagine Ecco qua Ho paura Ok Vediamo che non si sia Incassinato niente Come sempre Ok Questa qua Chi è? Allora Sembra un dipinto Di Van Gogh No Dietro è Sciallo Comunque Allora Cosa è conciuto Della nonna Quello dietro Allora Sembra Ti black game No Allora Hai due possibilità Potrebbe essere Le l'errore Potrebbe spariare Lasciamo stare Ha molti iscritti Si do Fabi J No No Fare Fabi J Eh C'ho le cuffie Allora Vabbè Eh sì Anch'io le cuffie Sono Fabi J ay sì Te non fai video di dream Quindi non sei famigFabit Ti ammasa Allora Allora Che potrebbe essere 15 secondi Le g supuesto Osserva Anche voi non mi viene Ti metti niente Eh 10 9 8 Anche te che metti ansia Bastardo E Cosa Andiamo E lei Lasciamo Siamo Del tempo Finito È Mi sento uno schifo Anima anima a più di non so 500 mila iscriviti ok dillo a tutti no comunque adesso tocca a lele gaza ok lele gaza ha deciso questa è coso dai oh cristo stormi no cavolo credo fosse stormi allora che può essere oddio il tetto sto facendo anche il cibo degli illuminati con quei dito poi c'è poi c'ho anche il telefono ok allora cavolo non lo saprei no no joker no un aiuto perché mi sembra dai un po' poi con la barba con la maglia lì con le belle spalle che ho visto l'altro giorno lo spera non lo so eh ciccio ho divinato sì mamma mia mamma mia ragazzi mamma mia no perché ho riconosciuto la faccia lì di ciccio no ragazzi come ho fatto non lo so io sono mitico allora ragazzi questa qui è l'immagine che ho scelto dello youtuber che le legate dovrà indominare indovini sono troppo depresso per dominare indovinare poi ho detto indoviniamo minando la gente sì ok ho indovinato le legate ancora cosa sto dicendo ho ingrandito quello che hai bisogno di ingrandire tutto bene è ok allora allora no questo è facile camp e il nuovo channel ce l'hai fatto oh madonna oh porca il primo tentativo anche tu no anche io io non l'avevo ancora visto io non l'avevo mai visto quindi inquadro ricordo che alcune volte ridiamo ma è perché ci divertiamo cioè non è che prendiamo non vogliamo prendere in giro nessuno ma chi puoi in giro ah sì ci dobbiamo prendere in giro da soli cioè ci sarà stifoso fai più sei un cavallo per questo ridiamo ok le legate questo è un po' difficile ma Nicolo lo conosce non lo conosco sì sì tranquillo sei iscritto sul canale ah senti sto non l'hai visto oddio chi è oddio non lo so chi è invece lo so global scream il possesso non c'è qua no per favore ecco aia adesso un piango muoio io mi sto cagando alle risate comunque sta 3 a 1 per me sì Ander Nico riesce a trionfare ciao no non volevo offenderti ok ho scelto l'immagine quindi eccola qua questo qua che vediamo anche voi da casa dovete magari prima di guardare chi è qual è l'immagine provate a indovinare scrivendovi nei commenti senza guardare possibilmente anche se non lo fa nessuno tutti i balloni scelte dei balloni ma neanche scrivono comunque va bene comunque va bene allora ecco qua cos'è quella roba allora analizziamo l'immagine allora analizziamo c'è un orecchio che sembra un angolo piatto un cappuccio che è fatto di osi squaiati un degli occhiali un armadio di dietro l'armadio perché l'armadio l'ha vinta sembra avere un alberetta sì io lo conosco boh e andiamo bene ti do un indizio visto che noi due parliamo molto di youtube magari non lo conosci però io te ne parlo molto spesso anzi molto spesso no però alcune volte lo nomino in alcune conversazioni poi gaming no e allora pensando allora sembra un barbolo ecco adesso che ho culo ci mi insulta mi vanno nel canale ti ammazza no da qui lo vanno a lui mio visto che dai sono gentile voglio dargli un altro minuto ma chi è questo ingrandisco un po' l'immagine team al tempo ok ho ingrandito un po' di più e non era un armadio ma era una finestra inizia con la m inizia con la m montato no e finisce con la y 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 e diciamo che sta 3 a 2 perché è pasqua si è bello sono gay rivelazioni su youtube no è una bugia è una bugia ok lele gas ha deciso questo è il nostro personaggio e questo è il tontico gabby gabby 16 vittorio l'ho nominato ci sono delle forbici questo tontico si se le do ecco qua delle forbici vado a impiccare hai una vena lì grazie tatà lele gas ha off camera come si taglia ste vene dove sono non le vedo ok allora dopo il taglio delle vene di lele ci siamo finalmente ho finalmente deciso per sbaglio mi sono tagliato una vena mi sono tagliato un neurone cos'è un neurone ok che te ne hai già perso ma donna allora è questo da youtuber che è praticamente praticamente niente ok praticamente ora ho fatto hai capito? che noia si sta quanto sta? 4 o 3 esatto noi ogni volta che c'è da contare un punteggio ce lo scordiamo mi ricordate mi ricordate una foto che non toccherà vissi che non ci ricordano esatto quando mi mostrano dei youtuber femmina io li conosco tutti beh certo ovvio comunque ora tocca le legano si fammi più la galleria si intanto io tanto cosi no e dopo lo fa vedere l'immagine penintero perché se no chissà cosa nascondo le gallerie di questi due youtube guarda che la mia sedia si è non lo conosci quindi io faccio posto no mi ho chiesto chi è chi è visis questo allora vediamo un po' oddio no chi è sto qua no questo mi ha messo in difficoltà oggi guarda il punto ragazzi aiuto no chi è questo allora fammi pensare non è lui allora lui chi no lui non può essere io parlo da sola si si allora chi può essere io qualche volta faccio per il bagno dicendo lui pisciare o non pisciare no cosa no ma cosa mi ho fatto mi piace poi gatto allora chi potrebbe essere ah po' non lo so chi è ragazzi non lo so proprio io non lo so proprio te lo vedi quindi no beh allora chi è ragazzi lui chiamatemi chiamatemi il telefono ti aiuto mi ha ancora usato il tuo numero sto morendo ok mi arrendo perché non so proprio allora è reaction 91 non lo conoscevo lo conoscevo lo conoscevo sì e adesso però mi ha scacciato il piede allora e adesso questa è l'immagine che ho preso oh dio che cosa lui con dei taglionini ok va bene adesso mi vado a buttare giù da un tutto ah ok praticamente alla fine dell'episodio moriamo tutte e due sì ok ho finalmente scelto ed è questo qua e boom vediamo un po' è facile quel musetto quel musetto l'ho già visto che parte e vuoi sparare allora fica però è stato tre 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 proviamo con le mie canzoni è una boiata però bui no poi due 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 basta un altro che sono triste sono un canistro momento di riflessire e chi potrebbe mai essere questo c'è un più angolo di dietro tipo illuminante no non è non dovrebbe far parte dell'illuminati crew se c'è comunque d'aiuto triangolo a caso cioè in una stanza uno non può avere un triangolo no allora mi sa io sono in te comunque allora praticamente ok ti arrendi mi avendo e chi? Giacorollo ma è dell'illuminati crew ah è dell'illuminati crew sì no 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 avevo detto tu film oh ma no 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 sì no 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 ovviamente è mega failata l'illuminati ok e l'illuminati è solo mi piace adesso piangiamo piangiamo un altro motivo per piangere ok spesso che prendo un dizionario e uno psicologo oddio ok dopo un mega fail lei ha finito i suoi youtuber allora me ne manca ancora uno chi sarà questo? lei questo è facile ma poi quanto stiamo? non lo so mi sa 4 a 3 vabbè tanto ci dovrebbe essere tipo il punteggio non so quanto si il punteggio qual so forse con l'edit di un po' ci possiamo fare ciao punteggio ho un saluto al punteggio e Gabi esatto mi ricorda qualcosa poi mi sono scordato che lui ok io adesso basta addio chiudo il canale ciao ragazzi oggi il canale di Cuomo Montaldi è mio no mi hai anche un fatto una sedia schifoso comunque ragazzi io direi che questo video speciale Pasqua è finito spero che vi sia piaciuto spero che vi abbia divertito come ci siamo divertiti noi si con i miei mega fail 2 3 o qua non lo so e i miei 100 si e poi adesso abbiamo imparato una lezione che se sbagli devi o tagliarti il bene o buttarti giù dalla finestra a proposto dove le hai invece le mie fobiche che mi devo buttare le vene si ahi dove è la finestra ciao ragazzi weeeeee Grazie a tutti.